Sto parlando dell'arma dei carabinieri che ringrazio perché ci ha consentito oggi di avere qui due degli eroi che mercoledì scorso hanno sventato quel terribile tentativo di attentato. Mi permetto di stringere la mano a Andrea Celeste, appuntato scelto dell'arma dei carabinieri e Francesco Lano. Erano due dei militari dell'arma che per primi sono intervenuti sulla statale e sono riusciti a bloccare quel delinquente, quel matto. Insomma, vorrei cominciare da lei, Celeste, perché lei è il primo che ha ricevuto la telefonata dei colleghi, essendo lei un uomo impegnato nella radiomobile. Che cosa ha pensato quando il collega le ha detto che stanno dirottando un autobus pieno di ragazzini? Beh, viene presso subito, in maniera reale, la chiamata che la centrale indirizza a tutte le veicolari. Quindi, unitamente all'altro collega, ci siamo portati sulla provinciale e da lì è stato intercettato subito il bus e poi ne è nato quello che di seguito è diventato l'evento straordinario. Beh, si è accorto che il conducente agitava o minacciava di agitare delle fiamme vive. Già alla nostra vista lui aveva in mano dapprima un coltello e poi un accendigas, poiché l'autobus era cosparso di materiale infiammabile, benzina. Quindi lui voleva compiere quel gesto dando fuoco al mezzo e dice poco da pensare. Francesco Nanno, lei che, a differenza del suo collega, nell'arma da un po' meno tempo, vista anche la sua giovane età, si è precipitato con gli altri colleghi nell'auto ed è stato uno dei primi ad avventarsi sulle porte. Lei è stato uno dei primi a toccare i ragazzi che stavano fuggendo. Sì, perché ero posizionato, io personalmente ero nella pattuglia della stazione di Peschiera, quindi ero comunque nella parte posteriore dell'autobus. Nella parte posteriore dell'autobus noi abbiamo cercato, fortunatamente riuscendoci, di far uscire i ragazzi. Quindi abbiamo poi forzato, dopo che sono stati spaccati i finestrini, abbiamo poi forzato le macchine. Allora io, voi avete sicuramente un addestramento che fa di voi delle persone capaci anche di reagire alle situazioni più difficili. Ma come si fa a mantenere la calma e la freddezza in una situazione nella quale vede dei ragazzini disperati che gridano davanti a un realissimo pericolo che possano non solo perdere la vita ma perderla nel peggiore dei modi. Perché lì, nell'emergenza, la prima cosa che si pensa è davvero di mettere in salvo i ragazzi. Quindi di per sé il pericolo passa in secondo piano. Il primo pensiero, la prima cosa da fare è immediatamente andare a salvare le persone che erano in pericolo. Allora proviamo a ricostruire un attimo la dinamica di quei momenti. Voi prima mi spiegava che avete cercato di bloccare le varie uscite per impedire che il dirottatore prendesse altre strade. Poi a un certo punto siete scesi mentre il dirottatore provava, riuscendoci anche a speronare le auto di alcuni colleghi. Lei a un certo punto ha aperto le porte. Che è successo? Allora sì, sono state aperte da vari militari. È stato un lavoro di coordinazione preciso e di team. Abbiamo aperto le porte, una volta che le porte e i finestrini erano stati aperti in un attimo, in pochissimi secondi, in una manciata di secondi, sono usciti tutti i ragazzi. Anche perché erano tutti quanti comunque accalcati e concentrati nella parte posteriore del mezzo. Quindi una volta che abbiamo aperto immediatamente si sono riversati tutti fuori. Immagino che siano stati questioni di pochissimi secondi, però hanno consentito al dirottatore di riprendere la marcia e alcuni dei ragazzi sono rimasti a bordo. Sì, poi fortunatamente mentre proseguiva ed intraprendeva la marcia, contemporaneamente uscivano gli ultimi ragazzi che cadevano a un passo comunque dalle ruote. Quindi il pericolo comunque rimaneva che qualcuno potesse rimanere ferito. Celeste, ci sono stati dei bambini quindi che solo per un pelo hanno evitato di essere travolti nel rogo di quella... Nel rogo, anche perché dal momento in cui l'autista, chiamiamolo attentatore, ha visto svanire l'intento di proseguire la marcia verso l'obiettivo prefisso, lui ha dato fuoco al mezzo perché, come l'ho detto prima, era cosparso di benzina e in pochi attimi il mezzo ha preso fuoco senza lasciar tempo ai bambini di scendere. C'erano ancora dei bambini a bordo. E in quel momento i bambini continuavano a scendere, così come anche i due insegnanti e l'assistente della scuola, ma portati in salvo subito. Anche lui abbiamo portato in salvo e trascinato via perché il fuoco a mano a mano divampava. Infatti si è visto che il mezzo è andato subito in fiamme, non ci ha messo tanto. Poi sono arrivati ulteriori soccorsi e quindi ci siamo defilati da quella zona che è diventata ormai nota... Non vi posso chiedere di spogliarvi della vostra divisa, ma vi voglio fare una domanda più da uomini che da militari. Qual è il ricordo e l'emozione che più vi resta impresso nel cuore di quella terribile giornata nella quale avete anche dimostrato tutto il vostro eroismo? Quando abbiamo contato tutti i presenti del mezzo, abbiamo sincerato in noi che erano tutti presenti e nessuno si era fatto male, tranne qualche scoriazione che dai vetri, dalle cadute, però erano tutti sani e salvi. Questo ci ha portato conforto. E allora questo merita davvero un applauso nostro che viene accompagnato dall'applauso. Ieri siete stati ricevuti con tutti gli onori al Viminale. Io ringrazio ancora Andrea Celeste e Francesco Nano.